Chi parla? Piede di velluto! Allora, e come stai? Antonio, finalmente! Accidenti, mi ce n'è voluto per trovarti il ministero, la caserma. Però mi potevi pure scrivere due righe, scusa. Pronto, Antonio? Ah, sì. Sapessi quanti mi hanno chiesto di fare coppia con loro? Ma io li ho mandati tutti al diavolo, sì. Ma che, siamo matti di distruggere la coppia Tony & Ster, Lauretta, Roger? Ma chi ti lascia? Chi è? Chi hai detto? Ho detto magari, ma adesso ho fatto coppia fissa con Tenente. Che, sei passato dall'altra parte? Sì, buonasera, ci vorrebbe pure. No, è un amico, un democratico, mi sa tanto che è comunista. Oh, ma lascia stare la politica. Ci vediamo stasera? No, stasera c'è un impegno. Lauret, c'è un impegno con la patria, no? Domani, domani sera so da libertà. Allora vieni? Come no? Non vedo l'ora di rivedere quei quattro tavolacce. Allora, mannaggia la zonza, domani sera.